beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati beati miti perché avranno in eretità la terra beati quelli che hanno fame e sede della giustizia perché saranno saziati beati i misericordiosi perché troveranno misericordia beati puri di cuore perché vedranno dio beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di dio beati i perseguitati per la giustizia perché di essi il regno dei cieli beati voi quando vi insulteranno i perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia rallegratevi ed esultate perché grande la vostra ricompensa nei cieli così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti